La Castellano Udas vince a Napoli contro la Magritte Basket con il punteggio di 61-90 nella non aggiornata del campionato di Serie C nazionale maschile. I Biancazzurri guidati da Matteo Totaro avevano bisogno di riscatarsi dopo la beffa del secondo tempo di Nardò. Partenza al rastro degli ospiti che con Ionicas e Martone, unitamente a Falcone, Maggi e a tutto il resto della squadra, danno l'idea della fisionomia della gara. Giocando con patti e con soltezza, ma i Cavani almeno per i primi due quarti sono in scia. Poi il crollo della terza frazione lasciano il campo libero ai cannibali che chiudono la partita con ben 30 punti di vantaggio. Tra gli altri risultati di rilievo da non dimenticare l'explora dell'Allianz Sansevero che raggiunge in vetta la classifica scavati con il punteggio di 63-50. Mentre il Benevento, il prossimo avversario della formazione udassina, ha vinto in casa 75-62 contro Nardò.